Dopo la sentenza della Cassazione per Wafaco Raici accusata da terrorismo è arrivato l'arresto in carcere a Vercelli. I lavoratori di Alessia hanno dato il via libera all'accordo che porterà alla definizione degli esuberi mercoledì la ratifica in Regione. Ripartono i lavori al cantiere del primo lotto della pista ciclabile di Verbania all'annuncio del sindaco Marchionini. Maria Grazia Girolimetto è la nuova badessa dell'isola di Orta San Giulio e domenica la cerimonia di benedizione abbaziale. In occasione del giorno del ricordo a domenica la passeggiata di lungo lago Gramsci intitolata ai martiri delle foibe. Netta vittoria della Igor che rifila un pesante 3 a 0 a domicilio a Filotrano continua l'esaltante lotta per il primato in serie A1. E ben trovati dalla redazione di VCO Notizie. Vi avevamo anticipato nelle passate edizioni del nostro telegiornale della sentenza d'appello per Wafakoraichi. Per la donna accusata di terrorismo ieri mattina si sono aperte le porte del carcere ed è tenuta nella casa circondariale di Vercelli. È in carcere a Vercelli da ieri Wafakoraichi, la 26enne marocchina residente a Baveno condannata per terrorismo internazionale. Ieri mattina i carabinieri della stazione di Stresa sono andati alla sua porta per accompagnarla in cella dove sconterà i sei mesi che le mancano della pena di tre anni e quattro mesi confermata la settimana scorsa dalla Cassazione. Wafa si trovava ai domiciliari nella casa in cui vive con il marito e il figlio piccolo. La Cassazione ha rigettato perché non ammissibile il ricorso e quindi confermato la sentenza d'appello. Dopo che avrà scontato la sua pena, la donna rischia l'espulsione dall'Italia. Per lei le manette erano scattate nell'aprile del 2016 nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura di Milano. È ritenuta di essere stata una fiancheggiatrice dell'ISIS con il pugile di Lecco Abderraim Mutarrik, condannato a sei anni, la moglie Salma Benciarchi a tre anni e quattro mesi e Abderraman Khakci a cinque anni e quattro mesi. Wafa avrebbe tenuto i contatti con il fratello Mohammed a ruolatosi in Siria tra le milizie del califato per avere la taschia, ovvero il via libera, per andare in Siria per gli altri coinvolti nell'indagine. Versa ancora in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Novara NS, 64enne, che ieri mentre versava la miscela nella motosega è stato investito da una fiammata. È successo nel pomeriggio di domenica nella frazione Revislate del comune di Gattico Veruno. L'allarme è stato lanciato dai familiari. È stato chiesto subito l'intervento dell'elisoccorso. Si pensava ad un trasferimento alla CTO di Torino. Le avverse condizioni meteo non hanno consentito. Con un'ambulanza è stato trasportato al nosocomio novarese a ostioni sul 70% del corpo. I vestiti pesanti in trisi di miscela hanno alimentato il propagarsi delle fiamme. Ed ora la pagina del lavoro. Per l'avvertenza Alessi sono questi giorni importanti. La settimana si è aperta con le assemblee dei lavoratori. Sindacato e maestranze si sono confrontati sulla bozza di accordo stilata l'altro giorno all'Unione Industriale. Si è svolta in mattinata l'assemblea dei lavoratori Alessi nel corso della quale si è discusso, valutato e votato l'accordo raggiunto lo scorso venerdì presso l'Unione Industriale del VCO tra aziende RSU ed organizzazioni sindacali. I contenuti dell'ipotesi che sarà integrata nell'accordo che dovrebbe essere ratificato in Regione Piemonte mercoledì prevede nell'ordine la dichiarazione dell'azienda di necessità di riorganizzare e ridurre l'organico per i motivi strutturali di crisi. L'apertura della cassa integrazione straordinaria per crisi che coinvolgerà fino a 280 dipendenti. L'impegno è iniziare in tempi stretti la discussione al fine di costruire un piano sociale di gestione utilizzando ogni strumento possibile per la miglior gestione del piano stesso e in ultimo la verifica e l'attuazione di percorsi di ricollocamento. L'azienda anticiperà le quote di provvidenza dell'ammortizzatore alle normali scadenze e sarà utilizzato un piano di gestione a rotazione tra i lavoratori che sarà oggetto di confronto mensile con le RSU. I lavoratori spiegano i sindacati hanno votato pressoché all'unanimità l'ipotesi discussa e presentata oggi. Si apre adesso la seconda e difficile fase della costruzione del piano sociale per la gestione degli 80 esuberi che l'azienda ha dichiarato di avere. Un primo incontro preliminare è già stato fissato per venerdì 15 febbraio presso la sede della locale Unione Industriali allo scopo di cominciare l'individuazione degli strumenti di gestione della seconda fase. Come RSU e organizzazioni sindacali, pur sottoscrivendo l'accordo raggiunto sulla cassa integrazione straordinaria, riteniamo di precisare nuovamente che sarebbe stato meglio utilizzare lo strumento dei contratti di solidarietà poiché assegnavano un tempo maggiore di gestione della difficile la situazione. Esprimiamo ancora con più forza la preoccupazione data da questi due fattori, il tempo a disposizione e gli alti numeri di esuberi dichiarati. Lavoreremo in modo efficace e continuo cercando di arrivare ad un piano sociale che contenga tutte le necessarie tutele e di necessari stimoli affinché tutti gli strumenti siano messi a disposizione dei lavoratori. E sulla questione intervenuta con una nota la deputata azzurra Mirella Cristina. Do la mia massima disponibilità, dice, assieme ai consiglieri regionali di Forza Italia, per coinvolgere la Regione Piemonte e trovare tutte le possibili soluzioni, anche formative, per ridurre l'impatto sui lavoratori dell'Alessi derivante dall'annunciata riduzione dell'organico. Questa è una di quelle occasioni che richiedono la più coesa unità di intenti senza colori politici. Lavoriamo insieme affinché l'azienda possa superare questo momento di difficoltà e tornare ad essere un punto di riferimento mondiale nel casalingo di qualità, con le minori conseguenze possibili per i lavoratori. Ripartono invece i lavori al cantiere della pista ciclabile a Fondo Toce. Finalmente sono ripresi oggi i lavori di realizzazione del primo lotto della pista ciclabile su una Fondo Toce, fermi ormai da alcuni mesi. L'ha annunciato oggi l'amministrazione comunale con un comunicato stampa. Si parla di difficoltà tecniche procedurali nel tratto che prevederà la realizzazione di un passaggio sbalzo sul lago nella zona del canneto. A bloccare il cantiere erano stati problemi rilevati dalle imprese che hanno vinto l'appalto e che hanno richiesto una perizia di variante. Intanto purtroppo anche la parte già realizzata mostra segni di incuria. Finito il primo lotto bisognerà quindi passare alla realizzazione del secondo dalla zona Tre Ponti fino a Suna. Finanziato con il bando periferie dei governi Renzi e Gentiloni si legge nella nota dopo un parziale stop del nuovo governo Conte ha visto per fortuna la conferma del finanziamento. Il comune è in attesa della firma della convenzione che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane da parte del ministero competente per poter riprendere l'iter realizzativo. Ubriaco alla guida finisce contro il muro e la pattuglia della volante lo denuncia. E' successo domenica intorno alle 11.30 a Gravellona Toce. Durante un normale servizio di controllo gli uomini del commissario capo Giuliano Ciraldo hanno visto un veicolo incidentato e a fianco il conducente. Si sono fermati e hanno subito notato che l'automobilista omenese classe 1983 V e le sue iniziali parlava fatica, aveva gli occhi lucidi e un forte alito di vino. Hanno così deciso di sottoporlo all'alcol test. Il tasso alcolico è risultato superiore a 1,50 grammi per litro, pari a tre volte il limite consentito. Per lui patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebrezza. Una cerimonia suggestiva, quella andata in scena domenica mattina all'isola di San Giulio per la cerimonia di benedizione abbaziale, per l'avvicendamento tra madre Canopi e la nuova badessa suor Maria Grazia Girolimetto. Un piccolo evento storico per il Cusio, oltre che per la comunità monastica di clausura del monastero dell'isola di San Giulio. Dopo 45 anni la fondatrice del monastero, Anna Maria Canopi, ha passato la mano per motivi di salute e a raccogliere il testimone è stata Maria Grazia Girolimetto, eletta nuova badessa lo scorso autunno dalle consorelle. A ratificare, con la tradizionale suggestiva cerimonia della benedizione abbaziale, il nuovo ruolo di abadessa dell'isola di San Giulio di madre Maria Grazia, c'erano insieme al vescovo di Novara, Monsignor Franco Giulio Brambilla, i vescovi di Piacenza, Monsignor Gianni Ambrosio e l'abate del monastero di Xamari in provincia di Frosinone, Don Roberto Dotta. Con i tre vescovi, moltissimi abati e rappresentanti di monasteri italiani legati alla piccola comunità monastica dell'isola, che oggi conta 73 monache, ma che nel corso dei 45 anni di presenza si è sviluppata, tanto che alcune monache hanno lasciato il monastero per dare vita ad altre comunità, in Valle d'Aosta, nel Torinese e a Ferrara. Cerimonia semplice, ma a tratti commovente, sino a quando il vescovo Brambilla ha consegnato, dopo la benedizione, l'anello e la croce, che sancisce il nuovo compito di guida di Madre Girolimetto nel monastero. Lo avete visto nelle immagini, ha presi tutto la cerimonia religiosa, il vescovo di Novara, Monsignor Brambilla. Un momento importante e bello per la comunità del Cusio, ma soprattutto, vorrei dire, per tutta la Chiesa. Lei ha definito l'isola di San Giulio l'isola del tesoro e questo monastero è una piccola Nazareth. Perché è così importante l'evento di oggi per la Chiesa? Io faccio osservare solo una piccola cosa, che noi, come Chiesa in Italia, come Chiesa diocesana, continuiamo a dire che dobbiamo andare verso gli altri. Queste suore, facendo bene la vita cristiana, in 45 anni hanno attirato tantissima gente. La vita cristiana è già attrattiva per sé sola, per questo ho parlato di un'isola del tesoro, elencando solo le cose esterne che sono state fatte qui, senza elencare poi tutti gli interventi sugli edifici, sul mantenimento dell'isola. E poi ho elencato anche che cosa è avvenuto dall'interno, che ho chiamato la piccola Nazareth, perché Nazareth vuol dire quel luogo dove la parola di Dio si immerge nel terreno, in silenzio, impara dai linguaggi umani. C'è una crisi delle vocazioni, c'è un aumento invece del monachesimo, che strano. C'è una crisi delle vocazioni, sì, credo le vocazioni sono in qualche modo addomesticate, barattate con forme più o meno ingenue, invece le vocazioni che sono ancora una volta seguite con profondità e che riescono a riattaccare la spina all'origine, questo è il grosso problema, che è una vocazione riattacchi la spina alla sorgente, allora la vocazione diventa subito attraente. Com'è che è cambiato il monachesimo oggi? Oggi direi il monachesimo è molto plurale in occidente, molto diversificato, anche con degli esiti molto diversi. I tradizionalisti hanno molte vocazioni, soprattutto in Francia, e direi hanno monasteri fiorenti. Le comunità invece, diciamo, che hanno fatto la riforma, ma tradizionale, molte sono precarie, difficile prevedere un domani. Le nuove comunità, anche loro, molto difficile, non è così facile vederne loro il futuro, perché ci sono molte contraddizioni. Un monastero come questo del Lissolo e di San Giulio, al femminile, di clausura, che cosa può rappresentare oggi? Il monastero di San Giulio d'Orta gode di grazie particolari, a partire dalla fondatrice, che indubbiamente col suo carisma ha saputo attrarre molte persone, ed è un monastero, direi, tra i pochi che in Italia sono davvero un grande riferimento per tutti di spiritualità. Quindi è una grande gioia essere qui, una grande gioia per la nuova Badessa. Insomma, credo che sia un giorno da ringraziare il Signore, perché è una grazia grande alla sua chiesa, San Giulio d'Orta. Ed ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla commemorazione del giorno del ricordo. Cerimonie sono state organizzate in diversi centri del territorio. Partiamo da Omenia, con l'intitolazione di una parte di Lungolago Gramsci, ai martiri dalmati e estriani. Un tratto del Lungolago dedicato ai martiri delle foibe istriane, un atto significativo per la città. Sì, il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno, che la Giunta ha immediatamente recepito. Abbiamo ritenuto di ricordare questo tragico episodio della Seconda Guerra Mondiale, con questa bella passeggiata a lago, quindi una giornata come quella di oggi, che è la giornata del ricordo, compendiata appunto con l'intitolazione di questa via. Penso che sia la miglior cosa che la città di Omenia poteva fare per ricordare tutti gli italiani che sono rimasti uccisi in questo tragico conflitto sul confine orientale. Un cammino iniziato una trentina d'anni fa per il Comitato 10 febbraio, un altro punto fermo ho trovato. Sì, sono molto contento di questa iniziativa, l'iniziazione comunale di Omenia, perché è davvero un punto di verità storica che è stata per troppi anni abbandonata. Anche ad Omenia, e da anni che si era iniziato a ricordare la tragedia delle foibe e l'esodo degli italiani delle terre della Venezia Giulia, oggi siamo arrivati a una bella iniziativa, una bella cosa, in memoria di tante persone che anche qui arrivarono, abbandonando le loro terre, le loro case, anche a Trieste, e hanno trovato accoglienza a Omenia, nel Berbano Cusiossola. Quindi grazie all'amministrazione comunale, perché finalmente la storia non è più storia negata. Anche Arona ha celebrato le foibe, due momenti commemorativi, il primo venerdì con gli studenti, il secondo domenica mattina in piazza. Iniziati venerdì 8 con le scuole e la proiezione del filmato in Aula Magna, a Sacrario della foiba di Bassovizza, le testimonianze di Claudio Strozzi che ha parlato delle foibe o sono finiti i suoi genitori, e esuri istriani, le celebrazioni del giorno del ricordo sono terminate domenica 10 con la deposizione della corona di fiori alla lapide che ricorda i tragici genocidi Giuliano Dalmati. 350.000 le persone della Dalmazia, dell'Iste e della Venezia Giulia che hanno dovuto lasciare le loro terre, le loro case. La barbarie non ha avuto limiti, 20.000 le vittime accertate. Spesso i ragazzi delle scuole si chiede che cosa sono le foibe, ebbene una percentuale molto elevata non lo sa, così come questo momento storico lo si è ritenuto riservato sino al 2005. Il rischio rimane che un brano della storia delle Venezia Giulia e della Dalmazia rischia di finire nell'oblio. Assolutamente importante informare i giovani, il futuro, le nostre nuove generazioni. Noi abbiamo visto l'8 febbraio, quando abbiamo fatto questo incontro in Aula Magna con gli studenti, gli studenti sono arrivati che non conoscevano nulla di questa tragedia nazionale, sia delle foibe che dell'esilio di oltre 300.000 italiani dalle loro terre, lasciando tutto, tutti i loro beni. E invece alla fine sono stati scossi, anche felici di aver appreso di una tragedia a lungo dimenticata. Ecco, il nostro compito come istituzioni è proprio questo, cioè far conoscere una tragedia perché questa tragedia non si realizzi più. Ora invece veniamo alle celebrazioni odierne promosse dall'amministrazione comunale di Domodossola. Una piccola folla si è radunata questa mattina nel piazzale del Movicentro a Domodossola per celebrare il giorno del ricordo, la cerimonia commemorativa dedicata alle vittime delle foibe e degli esoli di Istria, Fiume e Dalmazia. Come tradizione, nella piazza Domese si sono dati appuntamento alle associazioni combattentistiche, una delegazione di giovanissimi studenti delle scuole primarie della città, le autorità militari e civili. L'evento si è aperto con la deposizione della corona di alloro sotto la targa che ricorda quei tragici fatti successi fra il 1943 e il 1945. Il dovere della memoria, la costante negli interventi degli oratori che si sono succeduti al microfono domese. Il sindaco Pizzi ha sottolineato lo sdegno, la condanna verso gli orrori causati dai fatti succedutosi al confine orientale per troppi anni sottotaciuti. Il primo cittadino ha anche ricordato l'orrore delle guerre, delle persecuzioni, il dramma della pulizia etnica. A nome dell'amministrazione provinciale è intervenuto il consigliere Basta. Il compito di tratteggiare quella pagina di storie è toccato al professor Marcello Landi, docente di storia e filosofia al liceo Spezia di Domodossola. Una giornata dunque dedicata al ricordo necessario dopo molti anni per riuscire a parlare di memoria condivisa senza riservare sconti a nessuno. La celebrazione domese è poi proseguita presso l'istituto Marconi e Naudi Galletti dove sempre il professor Landi ha parlato agli studenti delle scuole secondarie e delle foibe con una conferenza sul tema italiani scomodi, gli italiani dell'Adriatico orientale. Ed ora andiamo a Piedimulera per una serie di lavori in corso e in partenza. Siamo a Cimamulera, frazione di Piedimulera, perché tra una decina di giorni meteo permettendo partiranno i lavori sul cimitero frazionale. Che cosa sarà fatto? Allora, vi era fatto un intervento importante che era atteso da anni. Verrà sostituita la copertura dei loculi perché ci pioveva dentro acqua con un materiale nuovo, una guaina particolare. Verrà sistemata un pochettino la discesa che porta al cimitero vecchio e soprattutto verrà fatto il nuovo impianto delle lampade votive. Ci sarà anche uno spazio dedicato allo spargimento delle ceneri? Sì, abbiamo ricevuto l'ok dall'ASL sia nel capoluogo che nel cimitero frazionale dove abbiamo individuato due aree per lo spargimento delle ceneri. Verrà fatta una zona con il praticello verde, le catenelle e le colonine in pietra e una lapide unica dove verranno inseriti i nomi di coloro che vorranno spargere le ceneri. Scendendo verso il capoluogo, importante finanziamento per il rifacimento degli spogliatoi del campo sportivo. Sì, abbiamo ricevuto una bella notizia inizio anno. Abbiamo presentato un progetto a ottobre di 175.000 euro per il rifacimento intero e un piccolo ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo. Ce l'hanno riconosciuto dalla regione Piemonte un finanziamento di 40.000 euro in conto capitale e 13.500 euro in conto interessi su un mutuo, un finanziamento che dovremmo sostenere col credito sportivo. È un intervento importante che serviva perché gli spogliatoi sono vecchi e obsoleti col tetto in Ethernet, insomma serviva un lavoro strutturale importante e finalmente potremmo farlo. Con i fondi frontalieri invece si sta sistemando un po' una parte della piazzetta all'imbocco della Valle Anzasca. Sì esatto, con i fondi frontalieri 2016 abbiamo deciso di demolire quelli che era la vecchia pensilina per gli autobus dopo diventata bagni a servizio del vecchio bar in legno che è storico di Piedimulera. Una volta venuta a meno questa attività questa struttura è rimasta faticente e obsoleta, non veniva più utilizzata e quindi abbiamo deciso di demolirla, di crearci un angolo pedonale con una fioriera in sasso e dei punti luce. A maggio anche Piedimulera va ad elezioni, si ripresenterà? Sì, mi ripresenterò, stiamo già lavorando, abbiamo fatto già qualche incontro, stiamo mettendo in piedi una lista che racchiuda una pluralità di idee, un po' di tutte le anime e le sensibilità del paese. In apertura di pagina sportiva il volley, disco verde per la Igor che passa 3-0 a Filotrano. Tutto secondo pronostico al Palabaldinelli di Osimo, non riesce l'impresa la Lardini-Filotrano opposta alle campionesse della Igor Gorgonzola-Novara devono cedere 3-0 parziali 22-25, 16-25 e 15-25 contro una formazione che seppur rimaneggiata e con alcune top players fuori per rotazione si imposta soffrendo solo nel primo set. Troppo evidente il divario tra due squadre separate alla vigilia da 29 punti in classifica. Solo nel primo parziale la Lardini è riuscita a tenere in scacco le avversarie, poi è stato un monologo per le giocatrici di Barbolini, guidate dalla olandese Celeste Plac e dalla centrale Stufi. Non male l'ingresso fin dall'inizio per la Lardini della Parteniu, ultima arrivata in casa Filotrano per rinforzare il roster in vista del finale di torneo. Infine una nota di merito per il pubblico, oltre 2.000 spettatori giunti da tutte le marche per ammirare le campionesse della Nazionale, Chirichella, Egonu e Piccinini. Cronaca del primo set, equilibrato alla parte iniziale con inizio di Novara, ma la Lardini riesce a ribaltare il punteggio fino al 21-19 in suo favore. Barbolini allora è costretta ad inserire la sua fuoriclasse, Paola Egonu, che della finale di set a favore delle campionesse di Barbolini con il punteggio di 25-22. Senza storia il secondo parziale con Igor Gorgonzola-Novara a dominare, una sola fiammata per la Lardini che arriva fino al meno 2 sull'11-13, poi però a solo Novara con parziale finale eloquente 25-16. Terzo set sulla falsa riga del secondo, Novara parte subito forte e non concede nulla alla Lardini con difesa e muro a fare davvero la differenza. Filotrano lotta con impegno e volontà, ma Novara impone la legge del più forte, chiudendo 3-0 con il 25-15 del terzo set. Vi ricordo la telecronaca dell'incontro, mercoledì alle 20.35 sulla nostra emittente. Siamo ora al basket, travolta a 102-56, la Mamioleggia a San Marcellino dalla Fiorentina, ora a meno 2 dal terzetto di testa, formato da Pafoni, Piombino e San Mignato. Cade la Vinavil Cipir, battuta 71-68 dalla Jessi. Ancora una volta il finale è amaro, anzi amarissimo per la Vinavil Cipir e Domodosso. La sconfitta alla Pallaraccagni 71-68 dalla Jessi con la tripla di Fornara, che sarebbe valsa il supplementare che viene sputata dal ferro. Una sconfitta grave per la classifica, perché sabato c'era stata la vittoria di Siena contro Montecatini. Siena dunque in questo momento a 4 punti di vantaggio nei confronti dei ragazzi di Milian, in cui ancora una volta non si può davvero rimproverare nulla per atteggiamento, abnegazione ed anche per la prestazione difensiva di assoluto livello contro una delle squadre più in forma del momento, un reddice della vittoria nel recupero a Siena e dallo scacco matto alla prima della classe Pafoni domenica scorsa. Una Jessi trascinata dal talento cristallino di Cernivani, un primo quarto di accecante bellezza per il numero 5, poi contenuto dalla difesa di casa. Invece la Vinavil Cipiri in attacco è stata essenzialmente, come troppe volte capita, Riccardo Ballabio, 19 punti per il play attascabile, costretto a fare gli straordinari. Una partita che è vissuta sempre sul filo sottilissimo dell'equilibrio, perché dopo il 18-11 della Jessi il massimo vantaggio di una delle due squadre è stato di 4 punti a testimonianza appunto del grande equilibrio sul parche. la differenza l'hanno fatta gli episodi, l'hanno fatte alcune scelte di Domo con qualche tiro affrettato nel momento topico del match. Non è bastata l'energia a tratti di D'Andrea e di Fornara, perché dall'altra parte, come dicevamo, c'è stato un grande Cernivani e poi c'è stato un Gloria che ha banchettato nel pitturato che è stato l'uomo decisivo nel corso del secondo tempo. Finisce dunque con un'altra sconfitta, 71 a 68. Mancano nove giornate, la situazione è compromessa, ma non è ancora finita. E con Daniele Piovera ora scopriamo ospiti e contenuti di dilettanti per dire. La trasmissione è dedicata al mondo del calcio, in onda come sempre lunedì alle 20.35, con replica il martedì alle 13 e alle 16.45. Appuntamento con dilettanti per dire, scopriamo chi ci sarà nella puntata di questa sera. Nella prima parte sono con noi il direttore sportivo dell'Inveruno Davide Ranieri. Ciao direttore. Ciao. Insieme a lui il presidente del Gozzano Fabrizio Leonardi. Ciao Leo. Ciao a te Daniele e un cordiale saluto ovviamente ai nostri amici di Inveruno e a tutti gli amici a casa. Insomma, un buon punto ieri, salvezza ormai acquisita, cosa chiede il Gozzano a queste ultime partite? Sotto il tavolo io ho il cornetto, mi dispiace, ho anche un ferro di cavallo, non rispondo a questa domanda, ma soddisfatto per il punto di ieri. Soddisfatto, poi parleremo anche della questione stadio che ha un po' così occupato le cronache negli ultimi giorni, direttore una vittoria esterna, siete lì a ridosso dei play-off? Sì, una vittoria importante, meritata secondo me, specialmente al secondo tempo. Siamo lì in buona posizione, poi play-off, ci sono anche altre squadre attrezzate che possono farcela. Sì, obiettivamente sì. Nella seconda parte avremo con noi il mister del Verbagna capolista in eccellenza Roberto Frino e il presidente del piedimoliera Beniamino Tomola, piedimoliera che ieri ha battuto l'ex prima della classe. Vi aspettiamo qui a direttanti per dire. Bene, non perdetevi dunque questo appuntamento a tuttonotizie.info per gli aggiornamenti. Grazie per averci seguito. Arrivederci alle prossime edizioni.